Una bella vittoria, dopo una bella prestazione a Legnano, oggi è arrivato anche il risultato, il miglior viaggio che intende. Sì, sicuramente abbiamo fatto un'ottima partita, siamo parli un po' contratti, all'inizio abbiamo sbagliato dei fili aperti, sia contro l'uomo che contro la zona, però così sono scorti. L'idea era quella di fendere forte, di correre in qualche piano, di mettere in difficoltà con la velocità, anche perché avevano rotazioni limitate e date di fortuna a due castelli. Noi ci siamo riusciti a definire seguiti, ovviamente avevano sicuramente sviziato per resistenza, però poi a lungo andare sono stati bravi a mettere in difficoltà con il nostro gioco in velocità. che, al contrario, ha avuto tanto da tutti, è diventato quasi una costante, può diventare una chiave anche nel derby. Sicuramente, oggi i trovo che le campi sono stati i migliori realizzatori, ma tutti hanno dato un grandissimo contributo, a partire da Tommaso Tempestino uscito dalla pantina, da Michael Wemmy, da tutti, da Di Sacco e Poli che poi hanno giocato anche pochi minuti, però quando sono entrati sicuramente hanno giocato con grande attenzione. Adesso sì, c'è il derby, avremo bisogno di tutti, avremo bisogno di fare una settimana di allenamenti così come non abbiamo più fatto da un mese, tra recuperi frasettimanali, Covid eccetera eccetera, e dovremo sicuramente prepararci al mese.